Musica Ben ritrovati con l'informazione su TRMH24. Ancora in primo piano emergenza sanitaria in Puglia, calano i numeri ma dimezzano anche i tamponi. 136 nuovi positivi, 6 decessi nelle ultime ore. Tamponi dimezzati, numeri in calo. L'emergenza sanitaria in Puglia rimane stabile. Su 2433 tamponi processati, 136 sono i nuovi casi registrati. 114 in provincia di Bari, 24 nella provincia della Bat, 4 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce e 7 in provincia di Taranto. 17 invece sono i casi residenti fuori regione. I numeri che nelle ultime ore però preoccupano sono quelli relativi ai decessi, 6 quelli registrati nelle ultime ore, 2 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto. Salgono così a 614 i decessi da Covid-19 in Puglia. Sono 9.669 invece i casi confermati da inizio emergenza sanitaria in regione, 3.913 i casi attualmente positivi. Di questi, 3.587 si trovano in isolamento fiduciario, 326 invece le persone ricoverate. La provincia più colpita in questi mesi è stata quella di Bari con 3.903 casi, 896 invece sono quelli che si sono registrati nella provincia della Bat, 803 nella provincia di Brindisi, 2.367 nella provincia di Foggia, 893 in provincia di Lecce, 730 in provincia di Taranto, 75 sono i casi attribuiti a residenti fuori regione e 2 di una provincia di residenza non nota. E il Policlinico di Bari ha disposto i tamponi per i venti dipendenti del Giovanni XXIII, tra questi uno solo è risultato positivo. Intanto l'asile di Brindisi nelle prossime ore distribuirà i vaccini antinfluenzali ai medici di medicina generale. Il Policlinico di Bari ha disposto i tamponi nei confronti dei 12 medici e 8 infermieri che nei giorni scorsi hanno partecipato in orario di servizio e senza dispositivi di protezione individuale ad una festa privata organizzata in un reparto dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII. Gli operatori sanitari sono stati tutti cattolativamente sospesi dal servizio e messi in isolamento fiduciario. Identificati subito dalla control room sono stati sottoposti a tampone e sulla base del tracciamento dei contatti stretti sono risultati negativi in 19, solo uno quindi il positivo. Nei confronti di eventi dipendenti dell'ospedale pediatrico, individuati attraverso la documentazione fotografica diffusa sui social network dai dipendenti stessi, il nosocomio barese ha avviato un procedimento disciplinare. A scopo precauzionale gli ambienti del reparto coinvolto sono stati sottoposti a procedure di sanificazione. Intanto da domani l'asile di Brindisi avvierà la distribuzione dei vaccini antinfluenzali ai medici di medicina generale e la seconda azienda sanitaria pugliese dopo quella di Taranto. Ai medici di base Brindisini verranno in prima battuta consegnate 100 dosi a testa. I primi ad essere chiamati per sottoporsi al vaccino saranno gli anziani. La regione Puglia attraverso l'asile di Bari, stazione unica appaltante, ha acquistato oltre 2 milioni di dosi. Di queste 150 mila saranno riservate ai farmacisti. E intanto sarebbero 53 emigranti positivi a bordo della nave Rapsodi. Circa 400 sono stati già trasferiti in centri di accoglienza o rimpatriati perché risultati negativi al tampone. Sono rimasti a bordo della nave Rapsodi 53 emigranti risultati positivi al coronavirus. Il traghetto nel porto di Bari da giovedì 8 ottobre aveva viaggiato per tre giorni con a bordo 805 emigranti, dei quali circa 400 sono stati già trasferiti o collocati in centri di rimpatrio nelle scorse ore. Tutte le operazioni sono avvenute a bordo della nave. A bordo viaggiavano anche 85 minori, 79 dei quali non accompagnati e tra i primi ad essere ricollocati in centri di accoglienza dedicati. Tutte le persone che hanno lasciato la nave sono risultate negativi al tampone. Nei confronti dei restanti sono stati avviati gli ulteriori accertamenti sanitari e lì oltre 300 tamponi, eseguiti fino a qualche ora fa, hanno accertato il contagio delle 53 persone. Gli accertamenti sono ancora in corso, fa sapere la prefettura, assicurando che tutti coloro che scenderanno saranno muniti di certificazione individuale attestante la negatività al covid-19. In precedenza erano state già ricollocate decine di migranti, risultati negativi ai test, tra i quali numerosi minori accompagnati in centri di accoglienza e rimpatrio. La Rhapsody dovrebbe lasciare il porto di Bari al termine dei risultati dei tamponi. Ed ora ci spostiamo in Basilicata. La Task Force regionale rende noto che su 1096 tamponi effettuati si sono registrati 30 nuovi positivi. La Task Force regionale comunica che nei giorni 10 e 11 ottobre sono stati processati 1096 tamponi per la ricerca di contagio da covid-19, di cui 30 sono risultati positivi. Le positività riscontrate riguardano 6 persone residenti in Puglia e lì in isolamento, 4 persone residenti a Matera, 2 persone residenti a Venosa, una residente a Ferrandina, una a Calvello, da riferirsi alla casa di riposo di Marsico Vetere, una a Sarconi, due a Potenza, di cui una in isolamento in Puglia, una persona residente ad Aliano, due a Tricarico, una persona residente a Pomarico, 4 persone residenti a Brienza e una persona rispettivamente ad Avigliano, Satriano, Marsico Nuovo e Sanchirico-Raparo in isolamento a Brienza, oltre una persona residente a Tramutola. Nella giornata di ieri risultano guarite 4 persone, una residente a Brienza, una a Tolve, una a Palazzo San Gervasio e una a Melfi. I lucani attualmente positivi sono 398 e di questi 364 si trovano in isolamento domiciliare. Sono 36 ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane. A Potenza 18 persone, tra cui un guarito in attesa di dimissioni, sono ricoverate nel reparto di malattie infettive, 12 persone nel reparto di pneumologia e una nel reparto di medicina d'urgenza dell'ospedale San Carlo. A Matera invece 5 persone, tra cui una guarita in attesa di dimissioni, si trovano nel reparto malattie infettive dell'ospedale Madonna delle Grazie. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 82.280 tamponi, di cui 81.205 sono risultati negativi. E voltiamo pagina. Il Premier Giuseppe Conte oggi in visita a Taranto ha parlato del futuro della città e poi ha annunciato una nuova visita per parlare solo dell'Ilva. Vogliamo quindi offrire un riscatto economico, sociale e culturale a questo territorio sofferente. Una promessa solenne a una città che ha bisogno di risposte. Giuseppe Conte riparte da Taranto dopo una giornata in cui ha firmato il contratto istituzionale di sviluppo e inaugurato la sede ionica della Facoltà di Medicina dell'Università di Bari, lasciandosi dietro le speranze di tanti tarantini stanchi di parole e avidi di fatti. Per questo ha annunciato che presto tornerà per un incontro specifico su Ilva. Noi stiamo lavorando in questo negoziato perché abbiamo coinvolto la parte pubblica, in particolare c'è il soggetto che è destinatario di questo coinvolgimento pubblico che è Invitalia, sta lavorando con gli Arsenal Mittal per perseguire quegli obiettivi che ci siamo riproposti. Chiudere un polo siderurgico in Italia è un problema di sistema, ma noi vogliamo rendere e accelerare la transizione energetica. Verde, arrivano anche soldi al Recovery Fund, abbiamo la possibilità di farlo, abbiamo la possibilità di preservare anche occupazione, proprio alla luce delle sofferenze, del dolore, della rabbia anche di questa comunità. Alcuni dei progetti vanno proprio in questa direzione. Oggi abbiamo posto la prima pietra per la costruzione dell'ospedale San Cataldo. Ancora, oggi abbiamo inaugurato il corso di laurea in medicina e chirurgia, un corso di laurea autonomo e ancora investiremo, in particolare specializzando, una ricerca che sarà specializzata per quanto riguarda l'infortunistica, la tutela dei lavoratori, infortunistica sul lavoro. In chiusura Conte è tornato anche sulle misure anti-Covid, escludendo un nuovo lockdown. Abbiamo lavorato proprio per prevenire un nuovo lockdown generalizzato. Nel frattempo abbiamo rafforzato le strutture ospedaliere, la risposta del sistema sanitario. Siamo molto avanti, facciamo un numero di test impressionante. Addirittura con l'ultima circolare del Ministero della Salute potremo ridurre anche la quarantena dai 14 giorni iniziali. Abbiamo anche la possibilità di introdurre nuovi test ancora più rapidi. Insomma, abbiamo adottato una serie di misure, abbiamo un sistema di monitoraggio molto sofisticato. Se proprio questa curva dovesse continuare a risalire, prevedo qualche cosiddetto lockdown molto circoscritto territorialmente. Ma non siamo più nella condizione di intervenire in modo generalizzato sul territorio nazionale o su ampie aree del territorio. E passiamo alla cronaca. Annoce un'automobilista è stato picchiato per un parcheggio. Tre ragazzi arrestati. Avrebbero picchiato violentamente un'automobilista durante un diverbio per un parcheggio. Per questo tre giovani di Putignano di 19 e 21 anni, tutti già noti alle forze dell'ordine per reati di droga, sono stati arrestati dai carabinieri. L'episodio è accaduto sabato mattina a Noce, in provincia di Bari. Due di loro al momento sono in carcere, mentre il terzo è ai domiciliari, in attesa che il giudice decida sulla convalida delle misure cautelari. Stando alla ricostruzione fornita dai militari coordinati dal PM di turno, Marcello Quercia, poco prima di mezzogiorno in via Siciliani, a Noci, un automobilista 53enne sarebbe stato aggredito con calci e pugni finendo in ospedale al Miuli di Acquaviva delle Fonti, dove è ancora ricoverato con prognosi di 30 giorni, con il setto nasale rotto e lesioni a schiena e torace. Dopo l'iniziale litigio verbale, i tre avrebbero colpito l'uomo con violenza brutale, dicono gli investigatori, provocando lesioni gravissime al povero malcapitato. L'aggressione è stata interrotta, evitando conseguenze ancora più gravi dall'arrivo di una pattuglia dei carabinieri. Due ed i tre avrebbero continuato ad avere atteggiamenti minacciosi e aggressivi anche contro i militari, tanto da scagliarsi contro uno di loro, procurandogli una leggera contusione al volto. Entrambi in carcere rispondono di lesioni personali aggravate, per resistenza pubblico ufficiale, mentre l'altro 21enne, agli arresti domiciliari, è accusato delle lesioni all'automobilista. Sono trascorsi i 18 anni da quando Vincenzo Moretti, detto Vinni, perse la vita in un incidente stradale. E dopo 18 anni il padre torna a chiedere giustizia. 14 aprile 2002, Vincenzo Moretti, detto Vinni, di soli 20 anni, muore in un incidente stradale sul lungomare di Bari. Insieme a lui perde la vita anche sua cugina, la 19enne Maria Esther Martino. Ora, dopo 18 anni, il padre di Vincenzo, Biagio Moretti, presidente della fondazione Ciao Vinni, torna a chiedere giustizia. Giustizia, che dice, non ha dato ancora alcuna risposta su quanto accaduto. Con il reato di omicidio colposo ormai prescritto, il processo di appello bis per le sole questioni civili è fissato per il 14 gennaio del 2021. Il primo grado si è celebrato dal 2006 al 2009 e quello di appello dal 2010 al 2014. In entrambi si è affermata la responsabilità con la condanna a due anni e due mesi di reclusione per il trentenne che conduceva l'auto con la quale si scontrò quella con a bordo le vittime, guidata da Andrea Godono, che invece fu assolto. La Cassazione nel 2017 ha annullato con rinvio quella sentenza e il nuovo processo dovrà appunto accertare l'eventuale concorso di colpa. La storia di mio figlio Vincenzo è purtroppo la storia di tanti ragazzi strappati alla vita da un incidente stradale, scrive il padre in una lettera aperta, parlando di tempi della giustizia infinitamente lunghi. Certo, aggiunge, la verità non ci avrebbe restituito nostro figlio, ma almeno avremmo avuto la sensazione di andare incontro ad un minimo di giustizia. Mi rifiuto di credere, ha concluso Biagio Moretti, che siano necessari più di 18 anni per capire. E continuiamo con la cronaca. Hanno rubato un'auto davanti ad un parcheggio condominiale sotto gli occhi sconvolti dei proprietari e è accaduto a Terlizzi, in provincia di Bari. Un'azione rapida avvenuta in pochi secondi, in pieno giorno. Complici tra i uomini che hanno rimorchiato la vettura fino alla fuga. L'incredibile scena è stata ripresa con alcuni cellulari dagli abitanti delle palazzine. Forse per questa ragione, poche ore dopo, i ladri hanno abbandonato l'automobile nelle campagne di Terlizzi. Il mezzo è stato poi ritrovato dai carabinieri. E ci spostiamo a Valenzano, sempre in provincia di Bari. Il sindaco, Giampaolo Romanazzi, ha ritirato le sue dimissioni presentate il 27 settembre scorso. Vediamo. Ho deciso di ritirare le mie dimissioni. Con queste parole inizia il post che il sindaco di Valenzano, Giampaolo Romanazzi, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook. Il giovane primo cittadino aveva presentato le proprie dimissioni il 27 settembre scorso, parlando di fratture create si tra le forze politiche che hanno impedito una svolta vera e talvolta ciò ha ralentato il lavoro di questi mesi. Oggi pare che queste fratture si siano ricomposte. La fiducia che avete riposto nei miei confronti, la stima, l'affetto e la vicinanza che mi avete dimostrato per strada e sui social mi hanno commosso e mi spingono a lavorare per il nostro paese con la dedizione e lo spirito di servizio di sempre. C'è stato inoltre il chiarimento che auspicavo con i gruppi che oggi compongono una maggioranza consigliare, continua il sindaco Romanazzi nel suo post. Ho apprezzato in particolar modo l'impegno con cui tutti si sono prodigati per trovare una soluzione condivisa. Sapevamo che si trattava di un percorso lungo e in salita, impossibile dare al paese un volto nuovo in poche e semplici mosse anche per la complessa situazione che abbiamo ereditato sul piano amministrativo con molti uffici comunali cruciali per il benessere e la sicurezza del paese sotto organico. Lavoro ne è stato fatto, energie sono state spese e poi in chiusura il primo cittadino scrive siamo consapevoli, mi scuso, per un paese ancora lontano da quello in cui tutti, me compreso, desideriamo legittimamente vivere. E' stata inviata il 21 dicembre la prima audienza del processo contro alcuni militanti di Casa Pound che due anni fa avrebbero aggredito un gruppo di partecipanti ad una manifestazione antifascista. Fuori dal tribunale un presidio del coordinamento antifascista di Bari ha sventolato bandiere intonato a Bella Ciao. In aula invece è stata rinviata al 21 dicembre la prima udienza del processo sull'aggressione ad un gruppo di manifestanti antifascisti compiuta, secondo l'accusa, nel settembre 2018 da 28 militanti di Casa Pound. Alla manifestazione in favore delle vittime dell'aggressione contro ogni forma di fascismo hanno partecipato Ampi, Arci, Cigelle e Bari insieme al presidio Luigi Fanelli di Libera e agli studenti di Link e Zona Franca. Insieme a manifestanti anche l'ex europarlamentare Eleonora Forenza tra le vittime dell'aggressione del 21 settembre di due anni fa. Si ha un significato perché non solo perché siamo tra le persone che hanno denunciato l'aggressione del 21 settembre del 2018 ma anche perché sappiamo che tra i capi d'accusa c'è la ricostruzione del partito fascista. Dopo la sentenza di Atene che ha condannato Albadorato come organizzazione criminale sentiamo tutto il peso non soltanto rispetto alla nostra denuncia ma anche al problema delle organizzazioni neofasciste in Europa che ha questo processo. E a Bari la giornata antifascista è cominciata già questa mattina con il gesto simbolico di intitolare Via Eritrea dove aveva sede Casa Pound a Maria Celeste Nardini ex parlamentare di Rifondazione Comunista scomparsa da poco. Quella del fascismo è una pagina chiusa che non va mai più riaperta e per scongiurarne qualsiasi tentativo si deve partire dalla toponomastica cancellando i nomi di quelle strade che rievocano una delle parentesi più buie della storia italiana. Una tra tutte a Bari e Via Eritrea, la strada che i militanti di Rifondazione Comunista hanno pensato di intitolare simbolicamente a Maria Celeste Nardini ex parlamentare barese da poco scomparsa. L'iniziativa è stata lanciata da Francesco Loconte, giovane militante del partito tramite una raccolta firme e accolta dall'ex europarlamentare di Rifondazione Comunista Eleonora Forenza. Non è un caso che abbiamo chiesto di intitolare Via Eritrea a Maria Celeste Nardini ma in realtà questo fa parte di un lungo percorso che oggi prende piede e che mette in discussione l'intera toponomastica della città perché non si possono più tollerare nel 2020 via Massaua, via Martiri di Dogali strade che inneggiano apertamente al fascismo. Vogliamo intitolare questa strada a Maria Celeste Nardini parlamentare comunista, parlamentare femminista, parlamentare antifascista in questa strada troppi nomi di strade rinviano all'epoca fascista crediamo che il fascismo vada combattuto nelle strade, nei tribunali Casa Pound va sciolta e anche nella cultura di questa città. Proprio qui in questa via nel quartiere Libertà si trovava la sede barese di Casa Pound ora sotto sequestro ed è questo il luogo in cui il 21 settembre del 2018 furono aggrediti alcuni manifestanti antifascisti di ritorno da un corteo organizzato dopo la visita dell'allora ministro dell'interno Matteo Salvini. Per quell'episodio saranno processate 28 persone esponenti del movimento politico di estrema destra accusate di riorganizzazione del disciolto partito fascista e manifestazione fascista. Ad avere la peggio in quell'aggressione fu Antonio Perillo. La ferita si è ricuscita però certamente diciamo siamo stati vittime di un'aggressione completamente a freddo, brutale, non era una discussione concitata noi eravamo oltre 100 metri all'incrocio qui tra via Eritrea e via Grisanzio adesso stamattina arrivare qui per via Eritrea e fare questo percorso per me che non sono di Bari e ci sono tornato insomma è stato abbastanza emozionante. Maltempo in Puglia, oltre 11.000 aziende a rischio, campi e frantoi allagati a causa dei violenti nubi fragili che si sono abbattuti nelle scorse ore proprio sul territorio pugliese. L'agricoltura pugliese è messa in ginocchio ancora una volta dal maltempo dalle piogge abbondanti e improvvise al vento forte anche la Puglia tra le regioni con allerta meteo in queste ore. L'inizio della nuova settimana è stata infatti caratterizzata da piogge e temporali La protezione civile ha annunciato per le prossime 12 ore allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali mentre allerta gialla per il vento. A rischio ci sono 230 comuni pugliesi 11.692 le imprese agricole che operano su tali comuni a rischio e sui possibili danni interviene la Col di Retti Puglia evidenziando che gli effetti dell'ultima ondata del maltempo si vedono nei campi, nei frantoi ma anche nelle aziende agricole. Questo preoccupa e preoccupa in modo particolare il caso di Parabita dove in poco tempo sono caduti circa 5 centimetri d'acqua Occhi puntati però anche a Brindisi e Foggia Servono interventi di manutenzione, fanno sapere dall'associazione di categoria di risparmio, recupero e riciclaggio delle acque e delle campagne di informazione ed educazione anche sull'uso corretto dell'acqua continuano. Un piano infrastrutturale quindi per la creazione di invasi che raccolgano tutta l'acqua piovana che va perduta e poi la distribuiscono quando ce n'è poca nel resto dell'anno. Politecnico, Università e Comune di Bari tra i 18 partner del progetto Passepartout finanziato dall'Unione Europea Droni, Sensore e un'app per monitorare le zone più inquinate di Bari Tra i 18 partner di Passepartout ci sono anche Politecnico, Università degli Studi e Comune di Bari Si tratta di un progetto finanziato dall'Unione Europea con 8,5 milioni di euro che svilupperà il primo sistema 3D per il monitoraggio di gas inquinanti e tossici I cittadini potranno valutare zona per zona, quartiere per quartiere lo stato dell'arte e dell'ambiente a Bari Attraverso un'app dedicata i cittadini potranno conoscere le aree urbane a maggior livello di inquinamento e quali sono i percorsi alternativi per evitare queste aree Il progetto, della durata di 42 mesi, vedrà il finanziamento utile a consentire gli studi sui sensori ottici di gas sulle stazioni fisse e mobile sul drone per il controllo anche della qualità dell'area e dei processi industriali Dal progetto agli enti pugliesi spetteranno complessivamente 1,3 milioni di euro Sarà possibile ottenere informazioni in tempo reale sulla concentrazione di gas inquinanti quali ossidi di azoto, anidride solfosa, ammoniaca, metano, monossimo di carbonio Parte delle attività di sperimentazione e validazione avranno luogo a Bari e sono già previsti test di sensori nel campus universitario ma anche nelle vicinanze del porto Soddisfatto il vice sindaco di Bari, Eugenio Di Sciascio perché Bari è la prima città nella quale verrà testato il framework di sensori innovativi per il controllo della qualità E l'aeroporto di Bari-Palesi oggi compie 90 anni per l'occasione è stata anche realizzata una targa commemorativa Il 12 ottobre 1930 si inaugura nelle Puglie il nuovo grande aeroporto di Bari sorto nel giro di pochi mesi La distanza è breve Italo Balbo, ministro dell'aeronautica ordina personalmente di partecipare alla manifestazione A Bari è prevista una grande cerimonia inaugurale Era il 12 ottobre del 1930 quando venne posata la prima pietra di quello che è oggi l'aeroporto di Bari-Palese un compleanno da ricordare 90 agli anni compiuti Nato come campo di aviazione per proteggere la città di Bari durante la prima guerra mondiale venne ufficialmente inaugurato come aeroporto militare nel 1930 ed intitolato allora ad Umberto di Savoia Attualmente l'aeroporto militare è intitolato a Jacopo Calo Carducci colonnello pilota barese della regia aeronautica precipitato durante la campagna di Libia con un bombardiere Savoia Marchetti S-79 Nell'occasione è stata anche realizzata una targa commemorativa che riproduce tutti i distintivi dei reparti qui presenti che idealmente sono legati ai 90 anni di storia dell'aeroporto militare Il colonnello Maurizio Ortenzi, comandante del quartier generale del comando scuole dell'aeronautica militare terza regione aerea di Bari-Palese, rimarcando l'importanza della storia dell'aeroporto nel territorio nel corso della cerimonia ha sottolineato che tutta questa evoluzione è stata possibile soltanto grazie al lavoro quotidiano di tanti uomini e donne che nel tempo, seppur avvicendandosi tra loro, visti con lo sguardo di oggi si mostrano come una grande squadra coese e professionale mentre il generale di squadra aerea Aurelio Colagrande, comandante del comando delle scuole dell'aeronautica militare della terza regione aerea, ha sottolineato che giorni come questo di ricordo, di celebrazione, di festa, di attenzione verso la storia dei nostri reparti rinsaldano i legami sia con il territorio che all'interno dell'aeronautica militare rafforzano sentimenti di partecipazione e di orgoglio verso le proprie radici rendono più forti e condivisi gli obiettivi istituzionali che siamo chiamati a perseguire E' la città di Alberobello tra i 500 luoghi più belli d'Italia e il riconoscimento arriva da una nota rivista australiana specializzata in guide turistiche Arriva un altro riconoscimento per Alberobello, simbolo della Puglia e patrimonio dell'UNESCO La cittadina in provincia di Bari è stata inserita tra i 500 luoghi più belli del pianeta e per la precisione al 273 posto nel mondo e al 15 tra le migliori città italiane L'Only Planet premia la capitale dei trulli inserendolo nella classifica del mondo 2020 La casa editrice australiana specializzata in guide turistiche e punto di riferimento per i viaggiatori ha primato Alberobello nella raccolta annuale delle 500 destinazioni più emozionanti memorabili, interessanti del pianeta classificate in ordine di attrattiva come scrivono nella prefazione i curatori del volume Alberobello entra quindi nell'elenco ideale dei luoghi da visitare almeno una volta nella vita La classifica nasce da una raccolta delle mete delle guide L'Only Planet che gli autori avevano segnalato come da non perdere Tra migliaia di proposte è stato poi selezionato un elenco più ristretto e la community L'Only Planet ha votato le 20 destinazioni preferite da ciascuno Contando i voti si è giunti a un punteggio per ognuna delle top 500 Alberobello infatti ha vinto nella sezione campagna con il 93% dei consensi risultando anche la località più votata in assoluto rispetto ad altre due vincitrici Canazzei per la montagna e Tropea per il mare A dicembre 2019 inoltre la capitale dei Trulli era risultata la meta più gettonata per le vacanze di Natale in un sondaggio tra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni Alberobello accoglie ogni anno 2 milioni di turisti di cui il 48% stranieri e negli ultimi tempi le presenze sono state sempre in crescita Nell'estate 2019 hanno avuto un incremento di 12.000 unità a giugno rispetto al 2018 sfiorando le 30.000 a luglio e 44.000 ad agosto e negli ultimi mesi nonostante il difficile periodo di ripresa dopo il Covid-19 turisti e visitatori sono tornati a riempire i vicoli del rione Monti con numeri quasi inaspettati data l'emergenza Questo risultato è stato raggiunto in collaborazione con tutta la comunità ha affermato il sindaco e delegato Anci Puglia per il turismo Michele Longo e con gli operatori del settore che con grande dedizione e impegno ogni giorno lavorano affinché Alberobello sia terra di accoglienza e di apertura al mondo Il riconoscimento di Lolly Planet è stato anche applaudito dal sindaco di Bari e presidente Anci Antonio De Caro che in un post su Instagram ha scritto è un motivo di orgoglio per tutti noi perché significa migliorare l'attrattività turistica e generare nuove economie di cui non beneficia solo Alberobello ma tutti i comuni della città metropolitana A Biceglie è stata allestita la mostra Strati d'Arte esporranno le loro opere due artisti pugliesi Michele Agostinelli e Nick Giù Due artisti accomunati dalla capacità di stendere colore su tavole di legno dando vita a vere e proprie stratificazioni d'arte e questa è l'idea alla base della mostra Strati d'Arte allestita a Biceglie nelle vecchie segherie Mastro Totaro e aperta al pubblico fino al 20 ottobre esibiranno le loro opere due artisti entrambi pugliesi Michele Agostinelli e Nick Giù due stili che appaiono molto diversi fra loro ma accomunati dalla tecnica di sovrapporre sulle tavole di legno materiale di recupero o strappi di manifesti e riviste i soggetti ritratti assumono nuove connotazioni grazie all'uso dei colori e del materiale pittorico che delinea i loro volti talvolta noti tra i più illustri quello del cantante Renato Zero e dello stilista Giorgio Armani la musica è una delle tematiche che lega Agostinelli e Nick Giù in buona parte della loro produzione durante il vernissaggio intervenuta Alessandra Savino che ha curato tutta la mostra il giornalista Marino Pagano e la storica d'arte Liliana Tangorra e i due artisti e questa è l'ultima notizia per questa edizione da nostro telegiornale vi ringraziamo per averci seguito e vi invitiamo ancora a rimanere sui nostri canali per altri spazi di informazione dedicati alla Puglia e alla Basilicata Grazie! Grazie!